Ho finito questo film solo una settimana fa, abbiamo finito questo film circa una settimana fa, quindi già tanto che sono arrivata a Venezia. Pensa di continuare nel genere drama o come si proietta, come hai superato il primo passo? Non lo so veramente se continuerò a leggere drammatico perché la mia prima cosa che ho scritto era un black humor, una commedia molto così sarcastica, romanzo. E quindi era molto molto... quindi io non so mai che ritornerò a scrivere qualcosa di divertente, di... Do you think you're gonna write a new novel or a new movie first? I don't know, I would like to write a novel again. Mi piacerebbe veramente scrivere un altro libro, un altro racconto. Literature is my other home, so I would always like to write another book, che la scrittura è la mia altra vera passione, quindi mi piacerebbe molto poter iscrivere un altro libro. But right now I can make more money working in cinema, and it helps me raise my family. Ma in questo momento sicuramente posso fare più soldi, stando nel mondo del cinema, vai in venda, e quindi posso avere più soldi per la mia famiglia, per mantenere la mia famiglia. Città di Mexico. Descrive in spagnolo? Spagnolo e in spagnolo. E alcuna cosa in inglese. Che cosa passa della vittura mexilana, nelle sue storie? Cosa hai avuto? Cosa ha influenzato nella cultura mexicana? Cosa hai avuto nella storia? Credo che ogni mexicano, ogni persona, ogni posto, è influenzato dalla sua cultura. Credo che nella città di Mexico la condizione humana è più rata, Molto crudo. Molto crudo. Molto crudo. Molto crudo. Perché è rata. E cose terribili succedono in Mexico. E le scocche a te, e te vedi cose che in altri paesi che non vedi. Per esempio, Carantino può fare fai di violenza perché non hai mai avuto la violenza. Ma ora in mexico, il mio figlio è stato chiedato e morto. Un figlio di 14 anni. Molto buono. Quindi, ovviamente, tu avresti divertire di loro? È impossibile. Ho scritto sui ricchi di violenza. Perché non hai mai avuto la mia vita. ed è una città molto chiuda, molto dura, dovevi veramente affrontare una violenza scioccante, una condizione, e quindi trovi a dover vivere tutti i giorni ad affrontare delle situazioni di violenza che sono veramente scioccante, per esempio il fratello del miglior amico di mio figlio è stato rapito e ucciso, di 14 anni. Esatto, è stato rapito e ucciso, e quindi queste sono delle cose che veramente non sembrano possibili. Quindi Tarantino può scrivere, lui non ha mai veramente sperimentato, non ha mai vissuto un riposo, non sa che cosa vuol dire vivere in un posto dove la violenza è una cosa che è quotidiana, e quindi lui può farlo anche in un modo un po' ironico, ma quando succede una cosa così grave, veramente, cioè come si fa poi a scrivere una cosa leggera e ironica sulla violenza, quando la violenza la scrivete sempre tutti i giorni e ti confronta nella tua vita quotidiana? Non, non so, non so, però non so, ma non so, non so, non so, non so, ma in un po' ironico. Non so, non so, non so, io sto chiedendo Tarantino, sto dicendo che è differente, Quando ti senti una violenza extrema, ti puoi capire di lui. Tutta storia prende molto tempo per maturare. E a volte sono molto disperse. E bisogna un elemento che li unirà. In questo caso era il concetto dei quattro elementi. Tutte le storie, cioè ci vuole molto tempo per sviluppare una storia. E alla fine la storia viene resa possibile quando c'è un elemento, un po' un collante, che unisce tutte le cose, tutti i vari aspetti. E in questo caso l'elemento collante sono quattro elementi, cioè aria, acqua, terra, fuoco. Questi sono gli elementi che, diciamo, sono alla base, l'elemento scaturente, l'elemento che racchiude la storia di questo film. e questo viene da varie storie che ho esperienza. Ho quasi avuto un accidente con un crop duster, da molti anni fa. e poi sicuramente molti degli avvenimenti delle storie raccontate sono delle storie che mi sono avvenute personalmente o comunque che io ho avuto in contatto. Per esempio anni fa ho avuto un incidente con un crop duster, che sono i disinfettatori dei campi, appunto come quello del campo di sorgo di cui parla la prima. mi è capitato di avere veramente un fantasma. Che partei? io ero a farmi un po' di due, in un campo di sorgo. e quando erano a scoprire noi, erano a tutti, e nessuno ci ha detto che erano a scoprire noi. quindi eravamo in un'auto, e il crop duster era qui, e abbiamo quasi un crash, perché si è avvenuto veramente lungo. Una volta lui stava in un campo di sorgo e andava a cacciare Colombe. e si stava avvicinando in macchina e loro chiaramente avevano chiesto di sgomberare completamente questo campo, solo che loro non avevano sentito e non si erano allontanati in tempo. e quando l'aereo si è abbassato, la loro macchina procedeva lungo la strada e quindi c'è stato quasi un incidente tra l'aereo che disinfettava e la sua macchina. il pilota era furioso, e noi eravamo come... perché era veramente... E il pilota era veramente arrabbiatissimo con loro, e loro veramente hanno fatto moltissima paura. Quindi questa è una cosa che gli è rimasta della sua esperienza. e credo che non in un film americano hanno mostrato crop dusting e la vita di crop dusters. e credo di poter veramente affermare che mai un film americano si è mostrato una scena di per esempio una disinfestazione di un campo di sorgo. Credo di essere stato l'unico ad aver mai mostrato una conta di difficoltà. e le altre storie hanno a riguardo con le cose personali, come... le persone che si fanno bambini per non ricordare le altre cose. C'è altre cose? No, le storie con cui è entrato in contatto. Quindi altre cose sono delle esperienze personali, magari di persone conosciute, di esperienze vissute in cui... per esempio appunto l'auto... Perché un uomo che racconta per una famiglia non è sempre facile. Perché non è molto facile sempre per un uomo scrivere delle storie impermiate su delle personalità femminili sincerate in questo modo. E spero di essere stato giusto, di averlo descritto in modo positivo. E aver cercato di spiegare quali sono le preoccupazioni e le centralità veramente dell'essere femminile. Spero di essere riuscito a spiegare questo. come ho detto varie volte in questi giorni. Cioè non dobbiamo dimenticare che la donna comunque tutti i mesi affronta comunque con le mestruazioni questo... con le mestruazioni ogni mese affronta questo... questo colore, questa perdita di sangue, questo fatto di avere una vita che non è... cioè che avrebbe potuto essere una vita ma che in realtà non è. Quindi affronta questo... questa chiamiamola morte virtuale. C'è una morte che... perché è una vita che noi non vi c'è. Allora... Allora...